Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo Caravan International Kiros Evo Limited. C'è un camping di 6,40 m molto comodo per portare tante cose. Cliccate sulla vostra destra in alto e vedrete tutte le caratteristiche della scheda del nostro sito con dimensioni, option, prezzo di listino e soprattutto prezzo chiave in mano. Poi iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanellina per essere sempre aggiornati di tutti i nostri video. Qui lo scalino, qui la stecca per poter prendere il tavolo e appoggiarla per poter mangiare fuori. Porta zanzariera. Zona giorno. La zona giorno ha questa bellina ribaltina che permette di poter accedere con più facilità nelle due poltrone e poi anche il prolungamento per avere un piano d'appoggio anche per coloro che sono qui nel posto passeggero. Quindi uno, due, tre, quattro. Un camping comodo da quattro perché si può dormire in tre o quattro posteriormente oppure tre di dietro e uno qui, due di dietro e uno qui perché il tavolo abbassandosi può crearsi come un letto singolo per lungo. L'ambiente ha un bello bloc, come vedete un bel contenitore, ben rifinito con contenitore laterale sia a sinistra che a destra. Il blocco cucina, piano d'appoggio, i due fuochi, il lavandino, cassettiera, altra cassettiera e un altro grande cassetto in fondo. Sopra, un bel pensile. Qua dietro, il frigorifero con il congelatore. Oltre ad avere lo spazio armadio. Cosa c'ha di particolarità questa zona posteriore? Che il letto è a volume variabile. Ora, in questa posizione è un letto che si dorme tranquillamente. Abbiamo un grosso contenitore che ora poi vi farò vedere dall'esterno. E poi il letto, che eccomi qua. Quindi, io sono un metro e ottanta, è veramente abbondante. Ma si può dormire sia per lungo che anche per largo. Quindi, qui ci sono le due prolunghe di materasso. Ora, non è così. Quindi, è un bel letto per traverso. E un bello blocco, finestra laterale e le due finestrine posteriori. Oltre ad avere questi grandi contenitopensili sia a sinistra che a destra. Quando questo sale in alto, la possibilità è di dormirci solo in due nella parte centrale. Però sotto c'ha veramente un mega contenitore. Andiamo nel bagno. Anche il bagno è funzionale. Guardate, bella la seduta. La finestra con il funghetto, quindi un bello scambio d'aria. Molto pronunciato è la vasca, per cui siete sicuri di non bagnare. Qua un pensile. E qui un altro contenitore. Poi, qua è l'area doccia. E qua, questa forse è un po' decentrata, ma è sempre funzionale, il lavello. Questo è il garage. Qui sotto vedrete le dimensioni minime dell'altezza e le massime. Quindi ha una capacità di contenimento veramente enorme. Qui c'è lo scivolo per la moto, per le bici, per i surf. Questo è forse un oggetto molto interessante per gli sportivi. Coloro che hanno piacere di avere tante cose a disposizione, sempre pronte per i loro divertimenti. Quindi veramente funzionale per due, per quattro persone. Quindi sicuramente se avete tante cose da portare in giro nelle vostre vacanze, questo camp è l'ideale. Chiamateci o veniteci a trovare per vederlo, perché uno scambio di opinioni in relazione ai vostri bisogni e alla nostra preparazione da camperisti e da professionisti nel camper vi permetterà di scegliere in un grande, ampio parco, perché il nostro motto è Caravambacci Libertà di Scelta, ma anche con ottimi prezzi e servizi. Ciao!